Aprile le bet che Jack sbaglia a fare la combo. Signor Dogerman, le può aprire pure lei le bet, visto che adesso è un moderatore della magia notturna. Ho capito, ho capito. Allora, quella è la motivazione anche. Per una questione di tempistica. Ci sta assolutamente. Ci sta assolutamente. Buonasera, Romus the Beast. Ben arrivato. Grazie per il follow, Jort. Dopo Tibaldo un altro mazzo pacco. Perché avete un mazzo pacco? Cos'è Tibaldo? Paradise Druid, questo che cos'è? Il Sacrifice. Gioca il verde? Che cosa mi sono perso? Gioca il verde perché? Non gioca il... No, gioca il verde perché? Per arrivare a 60 carte diverse. Ecco perché gioca il verde. Molto semplice. Molto semplice. Per arrivare a 60 carte diverse. Che devi giocare tutte carte diverse, se no la combo si blocca. Beh, beh, beh. Un patto ce l'abbiamo in Mario. Il primo patto c'è. Il primo patto c'è. Il primo patto c'è. Ok. Deve vincere molto più velocemente di quanto non lo faccia io. L'avversario. E allora, e allora, e allora, e allora. Spara l'elfo! Spara l'elfo! Non si può sparare! Però forse gli sparo questo! Spara l'elfo! Sparo questo! Vinza! Ancora non è vinza. Non abbiamo tassa oracol. Spara l'elfo! Spariamo quello! Oh! Vai! Gli fa fare cose. È un... È un engineer delle sue combo malvagie. Spara l'elfo! Cosa? Questo ci potrebbe ammazzare, effettivamente. Questo potrebbe ucciderci. Dovevamo veramente sparare l'elfo qua. Mi pare che dovevamo veramente sparare l'elfo, signor Prada. Cosa? Signor Prada, dovevamo sparare l'elfo! Perché non le ho dato ascolto? Sì! Sì! Abbiamo modi per sparare l'artefatto di main. Vediamo. Sparare l'elfo! Oh! Non credo. Niente, dobbiamo chiudere qua. Dobbiamo pensare a chiudere più velocemente possibile. Mi faccio tipo domo e passo. Dovevo trovare tassa. Dovevo trovare tassa sperando di non crepare adesso con Bolas Cittadel. Buonasera, signor Basito. Buonasera. Speriamo di non morire adesso. Vediamo. Ci sono, secondo me, buone chance di perds. Di Maio! Di Maio è il male, giusto? Questo è meglio ammazzarlo, giusto? Però si pesca pure una carta. Devo sperare che si blocchi. Non è facile. Non è facile. Sì, però... Scrive. Andiamo a quello che c'è in cima. To the Razor anche no. Però, tanto, se non chiude adesso, chiude il turno dopo. Devo topdeckare. Forse forse è un altro scrive. Proviamo a fare l'arte l'esact. Qua. Tipo. Se pesca non mi interessa. Cioè, se non mi interessa. Mi rompe... Mi rompe se può lanciare spell gratis. Soprattutto se... Andiamo? Non faccio omen. Collected company. Potente. Senza Di Maio a terra. Non dovrebbe riuscire a uccidermi. Forse sì lo stesso. Spara Di Maio. Ho già sparato, ragazzi. Spara Di Maio. Spara Di Maio! Cioè, che oggi è la giornata di body paint. Sì, ho visto che c'è un sacco di body paint. Claim. Male. C'è un altro Di Maio a terra. Quindi mi sa che è in Perza. Tacca, tacca, tacca. Sacrifica tutto Perza. Beh. Devo dire, non male l'avversario. Devo dire. Non male. Dovevo sparare l'elfo. Dovevo sparare l'elfo. Mannaggia. Se solo me l'aveste detto. Se solo me l'aveste detto che avrei dovuto sparare l'elfo. Spara l'elfo! Sono solo dieci danni questi. Ripreso ieri. Che ho ripreso? Spara l'elfo! Una quantità innumerevole di danni. Innumerevole. Innumerevole. Va bene. Prendiamo castdown. Mettiamo castdown. Cioè. Mettiamo verdetto. Mettiamo insomma anche extinction event. Anche se una monocopia della side. No. Vabbè sti cazzi è la monocopia della side. Negromenzia non è male. Da fare su Cittadella di Valles. Dures. Quasi forte contro di lui Dures. Quasi forte. Quasi forte Dures. Per scartare Cittadella di Valles. La Gabbias. La Gabbias. No. Gabbias no. Stoff Talents quasi. Grape Digger su Collected. Grape Digger solo su Collected. Ci potrebbe stare su Collected. Però si perde anche senza Collected Company. Test of Talents. Ci pensiamo. Cosa togliamo? Vediamo. Skinny vari. La Lanterna. Secondo me fa cagare contro di lui. Difficile sai dare in tempo. Devi vedere tutte le carte una a una. Talismano. Il talismano devo rileggerlo. Non mi ricordo che cazzo fa. Ma in realtà. In realtà. Non lo so. Spanale il fuo. Potremmo togliere peschini vari. Però si difende a abolire il deck. Ok. Ok. No. Non ho messo un cazzo alla fine. Non voglio. Non voglio togliere i peschini. Alla fine se. Vabbè. Ha chiuso velocissimo lui. Tipo a turno 4 ha chiuso. Quanto cazzo ha chiuso? Chiuso di una velocità allucinante. Green Tutore. Sembra eccessivo. Va bene. Va bene mettere una rimozione. Togli a scanta. Ma a scanta è sempre una carta che mi aiuta a cercare la combo. Non è che sono tanto felice di toglierla. Via Mindstone. Via. Che mazzo giochi? Stiamo giocando Dimir Combo. Gabbia blocca Cittadella? Sì. Ne sei sicuro? Sicuri che blocca Cittadella? Beh la gabbia la possiamo anche prendere dalla side volendo. Però è meglio giocarla di mazzo in realtà. Se gabbia blocca Cittadella allora sì. È la prima volta che gioco con questo mazzo. Non volevo snaturarlo più di troppo. Più di troppo e più di tanto. Quindi va bene così. Vai. Ok la blocca. Ottimo. Allora sicuramente gabbia va inserita. 100%. Eccola la signorina Azz Scarsa. Che giocheremo sicuramente adesso? Aggiungo due mana neri. Per sacrificare il cibo tipo. Pago due. Voglio fargli finire il mana. Non so perché. Veramente lo fa? Davvero? Ma perché mai? Perché mai? Va bene. Non ha senso penso. Proprio zero senso credo questa roba che ha fatto. Ma lei è fortissimo scusi. Va bene. L'hai fatto. L'hai faciuto. Non so giocare terra qua. Spanalfo! Ma se va giochiamo terra. Vai. Non prendo manco l'Urrus. Da che cazzo serve l'Urrus? Per riprendere Tassa Oracle dal Cessus? Sì ha senso. È forte. È forte l'Urrus per riprendere Tassa Oracle. Ci sta è vero. Col Cessus su Cittadella sarà bellissimo. Semmai lo farà. Secondo me lo sa che... Secondo me lo sa che c'è... Cioè se l'aspetta che c'ho counter in mano. Se lo chiaramente aspetta dai. Altrimenti avrei preso l'Urrus. Sicuramente. Guardate il maiale se l'aspetta. Ma perché? Ah per fare due mani. Esplode. Esplode. E cosa mi giochi di bello? Vediamo. Con due mani a Priest. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Pago due. Prendo l'Urrus. Tocca a te. Vai caro. Vai. Ecco l'Urrus. Va bene. Prendo. Spada l'Urrus. Spariamo Priest. Spada l'Urrus. Non l'Elfo ma bensì la Preta. Oh. La Preta. La Preta la spariamo. Spariamo la Preta. E pretiamo la... La spara. Un buon L'Urrus. E possiamo rigiocare a Scanta. Ma che bello. Allora inutile secondo me qua. Non so se voglio rimanere open o voglio rigiocare a Scanta. Per un turno rimango open. Anche se secondo me Censor non basterà a counterare l'eventuale... Spada l'Elfo! Non counter... Non... Non... Non riusciremo a counterare secondo me... Città del Bolas. Se a terra non possiamo counterare Città del Bolas. Che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. 6 mana già ce li ha a terra. Però se... Se ha un'altra terra... Se ha un'altra terra... Fa terra Città del... Non glielo posso counterare. E a Scanta sarebbe quasi importante da giocare. Tipo adesso. Però... Boh! Rimaniamo open. Magari non c'ha la terra. Magari non c'ha la terra. Ha 5 mana. No non è vero. Ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha 6 mana. Se ha terra c'ha 7 mana. Ma quanto godiamo, cazzo? Fai terra subito dopo, per favore? Fai terra? Fai terra follow up? Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Che c'aveva la terra della magia? Allora. Mettiamo sicuramente gabbia a sto giro. Mettiamo... Bello questo mazzo! Guarda come mi vince di combo, bro. Bene vince di combo. Tolgo veramente a Scanta. È una carta forte. Aspetta, ma che Link to Dust a che cazzo serve? Scusami, bro. Serve a niente. Link to Dust a non serve a una ceppas di minchias. Le abbiamo messo Cast Down, Grave Digger Cage. Il patto tipo lo pigli lodutori in un miliardo e mezzo di modi. Questo cosa fa? Prende carta dal mazzo, tipo. Spala del foo! Chi cazzo se ne frega? Pigliamo... Pegli, quello che ti serve è vinza. Certo. Drawing the lock, To the Resur, Tyran Scorn, Tomo. Tomo è... Tomo è buono. Mindstone non mi sembra eccezionale, onestamente. To direi Mindstone, tipo. No, siamo on the draw. Mindstone ci può stare per fare... Per sfrattare prima. Perza! E toverdetto. Toverdetto e tolgo... Minchia che difficile. Sai dare con sto mazzo è un... Atroce, cioè. È un incubo. Grave Digger Arnim è forte. Togliamo veramente a scanto. Se voglio mettere pure Extinction Event... No, ma un Extinction Event me lo tengo Inside da prendere eventualmente con... Con un tutor se sono con le pezze al culo, dai. Minchia su Cittadella è GG. Ma in realtà può vincermi pure di Smork l'avversario, eh. Non è che deve vincere forse in quel modo. Giusto? Oh no! Oh no! Sì o no! No sì! Keep. Adscanta è lenta, sì. Adscanta... Via. Via dalle balle. Buonasera all'ammantizio. Buonasera. Mi dite l'ora di farti scartillo, amico mio. Voglio partire con questa, perché mi fa giocare il castello stappato. All'occorrenza. Di niente Skyland. Che l'ha? Just Fosco! Ma benvenuto nella Gold Room. Caro amico della magia. Grazie mille, caro. Tecchio su match for the support. Secondo me... Ancora è molto lontano dalla Cittadella, Dice. Dice. Secondo me possiamo fare ruba pensieri. Lo facciamo lo stesso. Rubbiamo i pensieri della gente. Ruba pensieri è molto fastidioso. Ci toglierà verdetto, tipo. Anche Collected Company è molto fastidioso, però. In verità, ti dico. Secondo me se ne va a cagare Collected Company. Le dirò, le dirò, le dirò. Le dirò che se ne va a fanculo Collected Company. Non so se voglio fare opt subito. No, mi piace anche lo Scry. Scry, scry. Spesa fantastica. Fa dal push, sembra fortissimo. Forte, ma non fortissimo. Lo teniamo. Va bene, fa dal push. Va bene, fa dal push. La giochiamo comunque come contro. Come dei contro, quindi. Lo risolverai prima... Io risolverei prima con Strider. Lo volevo risolvere con verdetto. Per questo non l'ho risolto adesso. Lo volevo un pochino palleggiare. Va bene fare Ruba Pensieri e togliere Company. Anche perché Company ci sarebbe arrivato adesso addosso. Terra stappata, Company. La mano forte. Anche sapere che cazzo c'ha lui in mano. Mi piace. Prendere le misure. Sono tre damage. Ah, ma non ha Mana Nero il ragazzo. Deve sacrificare Locas. Due Mana Neri. Ruba Pensieri. E Priest of the Forgotten. E' finito però. Sono finite le carte, bro. Penso che mi toglie Tainan Scorn. O Verdetto. O uno o l'altro. Vediamo. Verdetto è lento. Quindi forse potrebbe dare precedenza a Tainan Scorn. In realtà la scelta giusta è togliere Tainan Scorn. Ma questo lo sappiamo noi. Non lo sa lui. Questo lo sappiamo noi. Non lo sa lui. Lo sa. Forse lo sa. Forse lo sa. Forse lo sa. Che ha scartato Tainan Scorn. No, va bene. Ci sta. Giusto. Buona mossa di Maggiue. Buona mossa di Maggiue. Quindi terra stappata. Aurov. Bollas. Bella signor Kama. Grazie mille per i tre. Ribenvenuto anche a lei nella Gold Room. Grazie ragazzi. Bene. Bene. Vabbè dai mi sono tolto tre terre dalla minchia. Tutto sommato poteva andare peggio. Poteva andare. Onestamente poteva andare peggio. Voglio fare subito Fatal Push su Priest. Non credo. Se dove si passa qua. Oh no. Me la penso. Intanto passo sicuro. Perché se no se lo sacrifici e fa scry. Ed è una cosa che vogliamo evitare in tutti i modi. Grazie signor Kama. Grazie signor Kama. Terra stappata. Era meglio palesemente di no. Penso che pare ero tipo. La vita è il nemico. Passa. Potrebbe avere benissimo Collected Company. Ma proprio benissimo potrebbe averlo. Faccio Fatal Push qua tipo. Speriamo non abbia pescato Collected Company. Però dalla faccia che ha secondo me ha pescato Collected Company. Dalla faccia brutta che ha per me ha pescato Collected Company. Altrimenti non si spiega il mana stappato qua. Gioco del forte secondo me. Togli il prete. Lei è anticlericale signor Prada. Non si dicono queste cose in questo canale. Che è una succursale del Vaticano. Cosa? Ma allora perché sei scioccato? Bottom? Ma perché l'ha fatto? Ma che cazzo fa? Cosa? Abbiamo fatto due per uno così gratis? Ma che pazzo l'avversario è. Pazzo di pazzia o di Gesùs. Ma è pazzissimo l'avversario. Pazzissimo. Pazzissimo avversario. First reaction. Shock. Ma sono veramente shocked. Sono davvero shocked. Così il shock of the lightning. Disruption. Disruption non è male. Però ancora non può fare cittadella di pallas. Me lo pesco. No terra tappata e passo qua. Rimango open di counter. E di brainstorm. Brainstorm. Poi c'è un brainstorm fine turno. Spara l'elfo! Attenzione. C'è un elfo. Un gobelino. Un koboldo. Un elfo. Un eone. Metto due carte in cima. Mettiamo top la terra basa. Questo è l'olio. Questo è l'olio. Perché la voglio. Intanto fammi vedere che possiedi amico mio. Ma lei è pazzo allora. Mastermind acquisition è good. Ce lo teniamo. E questo non mi interessa più counterarlo. Matematicamente non può fare cittadella di pallas. Non lo può fare. Sono 4, 5, 6 sacrificando. Mi piacerebbe prendere l'urrus qua. Però mi piacerebbe anche non rischiare nella mia esistenza. È rischioso. Rimaniamo open di counter. Set up the cittadella di pallas. Mi incazzo. Quindi passiamo. 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 Scrivete. 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 Terra stappata. Picchia. Pigchio. Lui non sa che ho questo in mano. Gioca sto strider. Dai. Che non lo giochi mai. Passiamo. Passiamo. Buonasera signore ecologico. Buonasera Laura. Bentornata. Vinciti. Ti mori. Vabbè. Dovrei vincere di combo. Ma se non pesco la combo. Non si vince di combo. Se si vince di control. In realtà in questa partita io mi aspetto di vincere. Di control. Di control. Di combo. Se vinco. Vinco di combo. Se perdo. Perdo di persa. Ci saluta tutto. Spare il foo. Qui purtroppo. Scraia. Al top deck. Non può fare bolas cittadella. Bottom. Ok. Siamo contenti. Il counter hill. Lo ce lo. Teniamo. Il counter hill. Ce lo teniamo. In serio. Non pesca molto. Devo dire. In questo turno. Mastermind acquisition. Non lo faccio. Non ha senso. Secondo me. Farlo in questo momento. È un icing remorse. Boh. Che cazzo c'ha in mano? No. Io qua tendo a... Prendere l'urrus. E a passares. Potrebbe aver pescato bolas cittadella. Per non giocarla la carta. Potrebbe averne pescata un'altra. Controlliamo che possiedes. E sarà meglio di nuovo onestamente. Era meglio che non avvenisse questa cosa. Terra. Era meglio di no. Era meglio di no. Indubbiamente. In questo punto. Giochiamo la creatura per bloccare. Terra da pada. E passiamo. Siamo a 11. Devo stare un attimino in campana. Com'era la storia non casuale delle monocopie? Vabbè. In realtà ce le abbiamo le carte. Dobbiamo soltanto prenderle. Ci sono mille tutorial nel deck. Di maio. Era meglio di no. Indubbiamente. Però va bene. Lo accettiamo a prescindere. Paro. Insomma. Fa molti danni quelli. Però dovrei vincere comunque in due turni. Va bene. Pariamo. Come è? Dal mazzo o dalla slide? Che cazzo cambia? Che me frega? Io dal mazzo. Anzi. Era meglio dalla side. Era quasi certamente meglio dalla side. Era meglio dalla side. Sì. Sì. Era meglio dalla side. Indubbiamente. Quasi certamente era meglio dalla side. Probabilmente era. Hai due copie e main. Sì. Lo so che ho due copie e main. Però è meglio prendere dalla side. Perché dalla side posso prendere in altri modi. No. Forse no. Forse questo. No. Va bene. Va bene prendere anche questo. Sono sei ricchi danni. Sei ricchi danni. Si ferma la combo. Se prendo dal mazzo si ferma la combo. No. Perché si ferma la combo? Con due copie uno scombi. No. Perché poi ne hai due nel mazzo. Ah. Vero. 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 Si ferma la combo. Vero. Ma. Vero. Quindi vinza di combo a breve. Me lo confermo. Adesso però lo dobbiamo fare. Dobbiamo capire come si fa. Vinza. Dobbiamo capire come si fa. Dobbiamo capire come si fa. Allora. Allora. Full control. Full control. Tassa oracle. Full control. Cliccate qua. Fase principale. Tassa oracle. Prima. Conviene. Tecnicamente fare prima tassa oracle. Abita. Impila. Tainted love. Tainted pact. Speriamo ce la faccia fare e non conceda. Così almeno scopriamo come si fa. No. Questo è tappato bro. Questo è tappato bro. No. Non conceda. Ve lo faccia fare. Perza. È un gaglioffo maledetto. Non abbiamo visto. Gli amici di YouTube. Cazzo. Muovete che perdi di tempo. Ma tanto l'avversario concede. Malefico. Malefico avversario. Niente. Non c'è stato modo. Cari amici di Twitch e di YouTube. Cosa sarebbe successo in questo momento? Niente. Avremmo esiliato tutto il mazzo. Tassa oracle dice che se non ci sono carte nel mazzo in pratica con The Motion 2. Anche The Motion 0. Se X è uguale o maggiore al numero di carte che hai nel mazzo. Vinci la partita. Da la carta bilanciata che si chiama tassa oracle che si gioca tipo in tutti i formati. Ovviamente con combo analoghe. Contented pact. In pratica ti esili il mazzo. Stai esilando il mazzo perché non hai mai copie uguali all'interno del deck. a parte due tassa oracle e due tainted pact. E comunque sono carte necessarie affinché la combo possa essere svolta. E quindi in realtà non si incontrano mai due uguali all'interno del deck. Quindi ti esili tutto il mazzo. E con l'abilità di tassa oracle ancora in pila. Infatti avete visto l'abbiamo giocato in risposta con lo stop nella fase principale. Vinza! Vinza! Però il gaglioffo del nostro avversario non ci ha dato come dire il gusto. Il gusto di farlo. La galera gaglioffo mi ricorda le scuole medie. Grazie di farci sentire giovani. Non c'è di che amico mio gaglioffo. E allora guardiamo al volo il deck in questione di nuovo. In pratica funziona come un dimir control. E' ovvio che il malus di questo deck è chiaramente il fatto di giocare monocarta. Devi necessariamente giocare un deck monocarta. Sennò la combo non si può fare con Tainted Pack. Devi trovare un'altra combo in un altro universo, in un altro luogo, in un altro, non lo so che cosa, galassia. Per questo deck qui, ecco, il grande malus, il grande deficit è quello di giocare monocarta. Ma non ce ne frega un cazzo, perché tanto ci sono abbastanza carte in historic da rendere comunque il deck solido. Allora, non gioco due brainstorm, gioco un brainstorm e un opt. E sti gran cazzi, cioè. Sono tante carte analoghe che fanno effetti simili. E alla fine sembrerebbe così. Si potrebbe pensare che un mazzo monocarta non sia solido, ma in realtà lo è uguale. Proprio perché ci sono molte carte simili. Sto ripetendo la stessa cosa. Esattamente come il deck ripete gli effetti delle carte, ma con nomi diversi. E con effetti, va bene, leggermente diversi. Abbiamo Inquisition of Kozylek monocopia. Rubapensieri monocopia. E comunque fa scartino. Abbiamo altro scartino monocopia. Modi di pescare, svariati. Modi di uccidere creature, ce ne sono innumerevoli. C'è un fatal push, un bloodchief. Cioè, non ci fosse, non esistesse bloodchief. Non esistesse art lesacta, allora sarebbe un problema. Cazzo, c'è solo eliminate bloodchief come rimozione. Ma siccome ce ne sono un miliardo fortissime di rimozioni in historic. Non è un problema. Altro scartino. Acceleratore di mana. Modo per cercare. Altra rimozione. Altra rimozione. Altro counter. Altro tutore. Modi per esiliare cimitero. Cimitero pesco. Peschino. Cerchino. Peschino. Terra slash counter. Fair wish tutore. Counter. Creatura che pesca. Tutore. Rimozione. Counter pesco. Pesco. Tutore. Terra pesco. Rimozione. Rimozione. È una cozzaglia di rimozioni. Peschini. Tutori. E qualche counter. Ok? Tutto per poi vincere con quattro mana. Capito? Cioè la combo. Una combo di due carte. Che costa così poco. È abbastanza forte da valer la pena. A quanto pare. No? Di giocare un deck così. Cioè ne vale la pena. Perché avere nel mazzo una combo di due carte che costano così poco. È una roba pazzesca. Stiamo parlando di una roba di altri formati. È una roba da legacy. Cioè è una roba di altri mondi. Di altri universi. Capito? Per questo è potente il deck della magia in questione. C'è anche la side. Ci abbiamo il terzo patto. Il monocopia inside da prendere con eventuale Fay of Wish. Che è la fatina. In questo momento non trovo. Altri counter. Altre rimozioni. Insomma è un mazzo molto difficile comunque da giocare. E comunque è un Dimir Control. Che deve incastrare il tutto. Per poi scombare e vincere. Quindi se stai giocando contro control. Gioca counter. Gioca cose. Devi... Non è che puoi lanciare la combo a caso. Devi ingegnarti. Devi organizzare bene affinché sta combo possa entrare cari amici della magia di YouTube. Nonché di Twitch. Se non l'avete fatto iscrivetevi. Se non venite su Twitch siete degli stronzi. Se non commentate sotto l'algoritmo. È un infame. È per lui. Solo lame. Lame e Benji. Lame e...